la fotografia mi prende come un virus è stato il mio primo amore parliamoci sempre cercato di di raccontarla la sicilia però attraverso il filtro di quello che sono i miei ricordi le mie visioni la sicilia è diventata qualcos'altro rispetto all'idea che abbiamo sempre avuto della di questa terra il reportage la fotografia sociale sicuramente una cosa molto importante ha creato e ha fatto la cultura della sicilia che però sicuramente mi può anche condizionare perché da lì sono nata anche delle importanti icone per cui è anche come dire inconsciamente si cita e si ricita quello che possono essere delle foto celebri di autori sia pure reinterpretata